Termina la tre giorni dedicata a Rocco Scotellaro in occasione del centenario dalla sua nascita. Dal convegno internazionale di studi a Matera è emersa tutta l'attualità del messaggio del poeta Lucano, trasversale nel tempo e nello spazio. L'analisi che questo convegno sta proponendo ha ricevuto. Indubbiamente la presenza massiccia di studiosi degnamente attrezzati ci ha convinto che il nostro proposito di cacciare fuori, di far balzare Scotellaro fuori dai limiti della provincia ha sortito sicuramente un effetto positivo. E questo non è di poco conto perché in fondo si tratta di recuperare Scotellaro nell'ambito di un canone nazionale perché solo così se egli viene inserito in un canone nazionale possiamo poi su questo far insistere altre iniziative. Proseguono le attività della regione Basilicata per far conoscere Scotellaro con altri momenti di studio il 7 e il 22 settembre e il 27 ottobre a Matera e con la mostra a Roma dal 20 settembre al 19 novembre nella Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea. A settembre torneremo a celebrare Scotellaro con altri convegni qui a Matera ma ricordo soprattutto la mostra che stiamo organizzando alla Galleria Nazionale Arte Moderna e Contemporanea di Roma che traspone l'insegnamento poetico di Rocco Scotellaro nell'arte contemporanea nella pittura di oltre 40 artisti che si sono lasciati ispirare dalla sua opera.